E chiudiamo questo video di oggi dalla Madonna di Monserrato con, era la sindaca di Libo, la signora Limardo, giusto? Sì, Maria Limardo, io sono devota della Madonna di Monserrato perché mia mamma è originaria da qui e ci veniamo ogni anno come pellegrini con grande devozione perché la Madonna è davvero dispensatrice di tante grazie e la portiamo sempre nel cuore per tutti i giorni dell'anno. Va bene, vi ringrazio e buon proseguo. Grazie.